Salve amici appassionati di Football Manager, qui come sempre c'è Michael 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo con i nostri Football Manager 2017 con il nostro mitico Reus e oggi andiamo a vedere la partita di Coppa del Re contro l'Alcolo Nella partita di campionato contro il Siviglia Atletico Direi di andare subito a vedere la partita, giocavo con Coppola, Noble, Assatienza, Babic, Campis, Do, Guzzo, Tebar, Usain, Carbia e Crisantus Ho messo Crisantus ragazzi perché voglio dare una chance anche a lui lì in attacco Lo so che a Major abbiamo fatto giocare solo mezza partita, per di più in una partita comunque difficile come quella col Getafe Però voglio dare una possibilità anche a Crisantus che per lo staff è il migliore attaccante che abbiamo in rosa E quindi diamoci questa chance perché comunque nonostante mentalmente non sia un fenomeno E' ugualmente secondo me un giocatore molto valido sia fisicamente che tecnicamente Certo il problema è che se si mostra un giocatore valido per fare il centro avanti Quindi avremo poi il problema di non avere un sostituto di Carbia Quindi dovremo vedere poi uno fra Major e Edgar che possa fare il falso 9 Quello sarebbe un bel problema però almeno ci andiamo a guadagnare un centro avanti che schifo non fa Poi in teoria c'è anche Querole che può fare il falso 9 o meglio lo sta imparando a fare Quindi tanta tanta roba Intanto attacca l'Alcoron con Piano, Babic cerca di difendere, c'è Piano, Babic se lo perde Arriva il gol dell'Alcoron e insomma non abbiamo iniziato proprio nel miglior dei modi questa partita Un po' mi secca perché sinceramente vorrei passare il turno e lo spero sinceramente Intanto Carbianche si è fatto male, ecco non proprio il primo tempo che speravo Spero insomma che ci siano dei miglioramenti Spero che iniziamo un secondo tempo di gran lunga migliore In un modo migliore Dopo il Getafe abbiamo perso un po' di smalto Questo c'è da dirlo Getafe era una squadra molto molto ostica Però insomma secondo me era abbattibile Quello che voglio dirvi ragazzi è che Ultimamente sto rispondendo meno ai commenti o anche ai messaggi Perché come già ho detto 60 volte Intanto vediamo l'azione C'è Chrysanthus Bello il movimento Bello anche il passaggio di Usain E gol Mamma mia Grandissimo Bello anche il movimento di Chrysanthus Che per il momento fa un assist Ed è sicuramente di più di quello che hanno fatto Edgar e Mayer Bello il movimento Si ferma Bello il passaggio filtrante E bello anche il gol di Usain Che veramente erano in mille in difesa E ugualmente le abbiamo inchiappettati Quindi quello che vi stavo dicendo È che comunque sto facendo un esame molto molto ostico E sto preparando un esame molto ostico E quindi il tempo è quello che è Prover questo abbiate un po' di pazienza Cercherò di rispondere appena posso O comunque appena finisco l'esame Risponderò con calma un po' a tutti Ovviamente li leggo i commenti Appena escono mi arriva un email O comunque controllo io E vi ringrazio ovviamente sempre per tutto quello che fate E ma questo vabbè lo sapete Sono grato a tutti voi Il problema è questo insomma Intanto c'è Carbia Eeeh che golasso Mamma mia Mamma mia ma che giocatore è ragazzi È proprio un fenomeno È proprio un fenomeno Che cacchio giocatore Ho provato a chiedere amicizia su Facebook Mi pare che non l'abbia ancora accettata Per il momento sono stato un po' sfigato Con le amicizie su Facebook Che che casa Dezus Non mi ha mai cagato E bagua pure E vabbè insomma Io ci provo Giusto fest fizio Però vabbè ovviamente È anche giusto Non accettare così gente a casaccio Che non si conosce Intanto ancora Usain Tanta tanta roba Doppietta per lui Assist di Carbia Partita ripresa Alla grande Veramente Complimenti ai ragazzi Sono felicissimo Di questa Di questo secondo tempo Primo tempo Insomma abbiamo beccato il gol Dopo un'unica azione Invece così Abbiamo ribaltato Le sorti di questa partita In più poi vabbè A causa anche di questo esame Mi sa che farò i video Di Di tutta questa settimana E anche della settimana dopo In tipo due giorni Perché ovviamente Voglio concentrarmi sullo studio Ma non voglio nemmeno Lasciarvi senza video Quindi farò questo Intanto faccio anche dei cambi Perché I giocatori stanno morendo Se mai contro il Sevilla Atletico Dovremmo fare un po' di turnove Intanto rigore Usain Credo che sia il migliore in campo Perché Due gol Si è preso Il fallo Del rigore Che lo batte Chrysanthus Si prende questa responsabilità Vediamo un po' Diciamo che Tecnicamente È un buon rigorista Forse mentalmente Non ci sta molto E infatti Lo sbaglia Vabbè Questo non toglie Comunque secondo me Ha fatto una buona partita E Migliore secondo me Di quella di Edgar Maior Anche se sicuramente Maior deve essere valutato Fatemi sapere anche voi Che ne pensate Di questi giocatori Comunque siamo all'ottantasettesimo Che la partita sia finita Sono abbastanza Soddisfatto Della squadra Vediamo un po' Se riusciamo a vincere Se riusciamo a vincere Anche col Sevilla Atletico Quindi Tanta roba E tanta attacca Ancora Chrysanthus Che ha voglia ancora di giocare Ma vabbè L'arbitro fischia Un buon 3-1 Sono contento Ovviamente Dico anche questo Ai ragazzi Abbiamo fatto pure Una buona prestazione Comunque 11 tiri 51 per la stessa palla Quindi bella così Ed eccoci qui Per vedere la partita Contro il Sevilla Atletico Giochiamo con Coppola Nobile La Satienza Babic Campis Do Mira Montebar Miramo perché Guzzo è stanco Usain Edgar perché Carbia Si è infortunato E Chrysanthus In attacco Però vabbè Carbia già si è ripreso Però aveva tipo L'82% di forma fisica Quindi ho preferito Lasciarlo a casa Riposarsi Di condizione Non di forma fisica Quindi speriamo bene Un attacco inedito Proviamo Edgar Come falso 9 E Chrysanthus Come Centro avanti Vediamo un po' Se le cose Vanno meglio Dobbiamo cercare Fra virgolette La perfezione Vedere un po' Le cose Come funzionano Intanto E vabbè Raga Mi sa che abbiamo trovato Il nuovo centro avanti Che è Chrysanthus Ammetto che Ho già fatto L'allenamento Cioè meglio Ho cambiato Gli allenamenti individuali Edgar l'ho messo Come falso 9 Per le caratteristiche Che ha Lo può fare C'ha l'agilità Che ha 9 Però per il resto Può farlo Senza troppi problemi Chrysanthus Può fare benissimo Il centro avanti Quindi Io ho cambiato Gli allenamenti Per il momento Chrysanthus Veramente si sta dimostrando Un giocatore Molto molto interessante Edgar potrebbe diventare Il sostituto Di Carbià E in più Ripeto C'è anche Querole Quindi potrebbero Andare insieme Alla perfezione Vediamo un po' Come andranno le cose Intanto Edgar Ancora Calcio d'angolo C'è la parata Di Ondoa In più In questi Diciamo Giorni Prima di questa partita C'è Diaz Giocatore in prestito Che a me non piace proprio Che ha chiesto Di terminare il prestito Perché insomma Non sta giocando Intanto c'è ancora Usain Mamma mia Ma che giocatore è Che giocatore è Terzo gol Stagionale Ma che mostro C'è veramente Usain Fenomeno Guardate qua Stop Tiro di sinistro Ondoa Poteva fare meglio Sicuramente E quindi ha chiesto Di terminare il prestito Sinceramente Io l'ho negato Gli ho fatto Dire quattro parole Da Major Lo so che giustamente Mi direte Ma se tu non lo vuoi far giocare Se non ti piace Perché lo tieni Semplicemente ragazzi È che non lo paghiamo Quindi Avere un jolly Gratis A zero A me non fa schifo Ovvio Se poi Continuerà a lamentarsi Se non vorrà più Sentire spiegazioni Lo manderò via Insomma Non è che lo leghiamo A noi Però Finché Non rompe Proprio del tutto Le palle Va bene così E Continuerà a giocare Su questi livelli Questo è poco ma sicuro Quindi vediamo Insomma Ripeto A me non piace Tanto come giocatore Però Non pagandolo Per me può rimanere Per il momento Chrysanthus Mi sta piacendo Usain Veramente Esplosione Totale Quindi Mi piace Anche lui Già Negli scorsi episodi Si è dimostrato Un ottimo giocatore Un ottimo Assistman Ma oggi Veramente Sta diventando Anche un ottimo Finalizzatore Con ben tre gol In questo episodio Sono molto molto contento Chrysanthus Bella esplosione Devo dire la verità Ragazzi In amichevole Già l'avevo provato Chrysanthus Ma come falso 9 E mi è piaciuto tanto Però Non l'ho messo subito A titolare Perché Diciamo che Le qualità mentali A me non Garbano tanto Di Chrysanthus Ma È normale Cioè Non ha manco Un numero verde Cioè C'ha tutto Al di sotto Del 10 Però In amichevole Ha tipo fatto Un gol Da 35 metri A cui Anche Ad un amico Gli ho mandato Il video Perché è incredibile Una bomba Quasi nel set Da 35 metri Non è da tutti E in più Comunque ha fatto Altri Ha fatto anche Un paio di gol Insomma Ha giocato abbastanza bene Per quanto Sì ovviamente Ha segnato Però erano Nelle due amichevole Abbastanza facili Proprio per questo Non gli avevo dato Molta importanza Però insomma Si sta risultando Sta Comunque vedendo Che è un buon giocatore Intanto qua però Ci segnano Assolutamente Un bel concentrato E vi ci sta tutto Non vorrei La beffa Perché per il momento Abbiamo giocato Abbastanza bene Quindi sarebbe Un peccato Buttare un po' Tutto alle ortiche Poi a ver questo Faccio qualche change Anche perché Do sta morendo in campo Mettiamoci Diakite Ci sta anche Usain Che sta morendo in campo Mettiamoci Maior Devo mettere in panchina Anche Vitor Silva Perché Insomma Si merita anche un po' Più di spazio È un giocatore Molto interessante Ci metto Maior Perché Può fare Insomma Quel ruolo Anche se effettivamente È un po' Troppo Offensivo Intanto abbiamo visto Uno dei terzi in destri Più comprati In questi anni Giovanissimo È molto molto interessante Intanto qua Buttiamo palla È un po' Paura infatti C'è Gonzalo C'è Gonzalo Tebar Ciurro Ciurro No raga Mugnoz Sulla sinistra Mugnoz Bravo a fermarlo C'è Maior Che però Non ci esce C'è Sanemeterio Con la palla Però per fortuna Ma sbaglia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Io qua vorrei Cambia qualcosa Vorrei difendermi Un po' Di più Sinceramente C'è Tebar pure Che sta morendo Però Maior Effettivamente Non è che lo posso mettere Io le avrei Clisantus Prenderei Puerto Lo metterei qua Lo so ragazzi È molto molto Difensivo Però Sti cazzi Insomma Io Metto centro avanti Qua Maior E Scusate Edgar Maior Che fa qui La difesa 5 Io metterei anche Difensiva Manetta Perché sinceramente Non voglio Buttare una partita All'artica È una partita Che potevamo appunto Vincere Stavamo facendo Un'ottima prestazione Con ben due golle Però In questo secondo tempo A differenza Da partita con l'alcol Non siamo scesi Non tanto in campo Siamo un po' rimasti Negli spogliatoi E questo ovviamente Non mi piace E Speriamo un po' FM è un po' bastardo Mi fa Morino Vabbè che cazzo Speriamo che sia Una nostra azione Tebar Tebar La passa Edgar Teniamo palla Vi prego Edgar non sbagliare C'è Miramon 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 C'è Diachite Diachita per Tebar C'è Maior Maior Bello il pallone Per Campis Nostra azione Nostra E segna Edgar Anche Daie così Daie Daie In 5 in difesa Abbiamo E in difensiva Abbiamo anche segnato Campis Finalmente C'è un suo assist E finalmente C'è anche il gol Di Edgar Che sarà Felicissimo Oggi Gol per tutti Crisanto Sussain Edgar Carbia Quindi veramente A parte Meior Hanno segnato Tutti gli attaccanti E vabbè Finita qua la partita Sono molto più rilassato Sono molto più contento 3 a 1 Complimenti alla squadra Un buon episodio Di verità Non mi aspettavo Due belle Veramente partite Tutte e due Sul 3 a 1 Meglio così Siamo quarti Vabbè Insomma Abbiamo appena iniziato Il campionato Quindi c'è poco da fare Usain Veramente strepitoso Sono molto molto contento E niente ragazzi Detto questo Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Tenete mi piace Commentate Condividete a manetta E come sempre Un saluto a Mike94 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi